buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video come al solito un video particolare in cui andremo a parlare di una situazione un po bruttina di cosa si tratta come avete letto dal titolo quindi inutile faccio il misterioso vi ha un problema sull'app store per chi non lo sapesse sarebbe lo store di apple per chi invece android sarebbe il play store di apple dove posso scaricare tutte le app ed è apple e si vanta di tenere i propri dispositivi al sicuro che iphone è sicuro attento alla privacy malware infatti non si possono installare app esterne essendo pure un ecosistema chiuso apple e inoltre la pubblicità appunto dell'app store dice che posto che desideri di più ed è sicurissimo si vantano anche molto delle delle attenti ricerche del che sono attenti a tutti i dati che un app può chiedere di qualsiasi cosa bene ma c'è un problema e sta affliggendo moltissime moltissime persone soprattutto per chi ha implementato i pagamenti automatici sull'app store e su apple gli abbonamenti automatici vi sono delle app ma molte app che sono apparentemente gratuite e innocue ma che invece sono appena installate dopo una minima dopo poco tempo attiva subito un abbonamento che può essere mensile o annuale a volte di cifre alte senza che noi ce ne accorgiamo e senza capacità senza possibilità di disdire velocemente infatti non so se vi ricordate vi era una feature sull'app store che era molto criticata da molti e molto amata da altri ed era appunto una feature che permetteva di far vedere le app che hanno fatto guadagnare di più allo sviluppatore questa funzione vi è anche sul play store di android possiamo riusare questa feature su questo sito andando in prodotti vabbè io ce l'ho in italiano andando su products e top charts possiamo visualizzare le categorie con il record di incassi o in originale top grossing infatti noi possiamo scegliere il nostro stato la data va benissimo a quella di oggi e la categoria sta in tutte le categorie quindi io ne metterò una a caso però diffutissima nelle utili soprattutto perché quello mi ha fatto ridere che in prima in classifica cioè ora vi spiego perché rido per chi non lo sa qr code è un app appunto per scansionare i codici qr cosa che la fotocamera di apple ha già di default nativamente quindi non ci sarebbe bisogno di installare nulla bene questa app oltre che avere un cifro di download anche troppi incassi ora io non sto giudicare però questa app che oltre che non servire a niente a nulla sblocca appena scaricato un abbonamento di 9 euro e in cui ma neanche ce ne accorgiamo ma è che non riusciamo a disdire infatti come leggiamo da alcune recensioni altro discorso sulle recensioni ci sono molti utenti che sono stati scammati appunto da quest'app e come mai allora questa app non è stata bannata e ha una media di stelle molto alte bene sono bottate infatti uno degli utenti molti utenti palesemente fake con no a nomi e messaggi corti e stupidi diciamo fanno recensioni alte e si bottano le recensioni infatti vi lascio qua un link nelle schede in un video simile che ho fatto su amazon e ebay vi lascio inoltre il link in descrizione del mio sito e del mio canale telegram in cui propongo offerta amazon sicure comprando da qua sostenerete pure il canale gratuitamente proposito di sostenere gratuitamente potete fare beneficenza senza spendere nulla al video vi lascio qui ritorniamo però al discorso di questo video perché ne parlo la situazione vi è anche su l'app store sul play store di google di android ma google e android non si vantano così tanto non fanno leva così tanto sulla sicurezza cosa che apple fa ma questa situazione non sono casi umani sono tantissime le app inutili con nomi stupi anzi alcune sono addirittura copiate perché prendono app veritiere cambiano leggermente il codice fanno un rebranding cioè cambiano soltanto l'icona nome autori mettono questo le mettono come gratuita è appena scaricata un abbonamento mensile che sapete i pagamenti automatici sarà tutto automatico e ben accorgerete perché l'app non ve lo dice oppure ve lo dice in un messaggino nascosto piccolo piccolo sole ben accorgete solo quando ricontrollate la cronologia dei pagamenti su wallet di apple questa situazione è gravissima come proteggersi è un po di intuito ovviamente non scaricate app inutili voi cercate l'app su questo sito vedete gli incassi e download e leggete molte le recensioni leggetele molte a questo qua il più grande consiglio cioè uno che si chiama app bellissima fa una recensione di 5 stelle funziona veramente è palesemente fake oppure che fanno questi messaggini corti con 5 stelle poi sono molti alla versione 1 perché se le bottano all'inizio dai questo qua è palesemente fake ci vuole un po di buon senso guadagnare molto ovviamente non le app che ho fatto vedere in questo in questo video non sono non dico che sono 100% scam perché non le ho scaricate sul mio iphone ma ad occhio si fate attenzione è un problema che vi è anche su android però in forma minore diciamo fa meno scandalo vabbè spero che questo video vi sia interessato che sia stato utile a molti arrivederci e al prossimo video grazie a tutti